A 5 anni dal conseguimento del titolo in Italia i laureati lavorano nel 84% dei casi, oltre la metà è assunta a tempo indeterminato e i lavoratori autonomi sfiorano il 20%. A pagare di più sono le lauree in ambito sanitario e ingegneristico. I dati sono del focus realizzato da Alma Laurea sulla base del diciannovesimo rapporto sulla condizione occupazionale dei laureati. Il rapporto, che ha coinvolto oltre 75.000 laureati magistrali biennali del 2011 a 5 anni dal titolo, evidenzia che i laureati delle professioni sanitarie e quelli dei gruppi ingegneria sono quelli con un tasso di occupazione superiore al 90%. A seguire ci sono i laureati dei gruppi economico-statistico, poi scientifico-chimico e architettura. Di poco inferiore alla media sono invece gli occupati degli ambiti disciplinari linguistico e politico-sociale, agraria, educazione fisica, tutti comunque intorno all'82%. Resti invece al di sotto della media il tasso di occupazione dei laureati dei gruppi psicologico, insegnamento, geobiologico, giuridico e letterario. Il tasso di disoccupazione a 5 anni dalla laurea è del 9%, con valori più elevati tra i laureati dei gruppi letterario, giuridico e geobiologico. A livello retributivo i laureati magistrali a 5 anni dal titolo percepiscono in media 1.405 euro netti mensili. Sono anche qui soprattutto i laureati di ingegneria e delle professioni sanitarie a contare su retribuzioni più alte.